Ciao a tutti ragazzi, io sono Nornet e benvenuti in questo nuovo video. Questa volta è un video un po' diverso perché è per annunciare a una nuova collaborazione. Infatti, da pochissimo, come avrete forse anche visto nelle serie di Instagram, abbiamo iniziato una collaborazione tra appunto il canale e il Camp Phoenix Softair Dromo. Sicuramente molti di voi conosceranno già il Camp Phoenix, dal momento che ho messo vari gameplay. Per chi non lo conoscesse, il Camp Phoenix è stata una delle primissime arene di Softair che sono nate in Italia, forse addirittura la prima in assoluto. E si è evoluta col tempo, diventando un punto di ritrovo importantissimo per il Softair in Italia. Si trova nelle Marche, più precisamente in provincia di Ancona, a Monsano, e fa parte di un complesso chiamato Paradise Center. All'interno del Camp Phoenix ci sono vari ambienti, dal campo in sé, che è un campo CQB molto stretto, che rievoca un villaggio arabo, dove si possono fare un sacco di partite molto veloci, molto dinamiche, dove gli organizzatori cambiano le porte chiuse con quelle aperte, alcuni muri, alcune strutture, molto spesso, in modo tale che ogni volta che ci andrete sarà sempre leggermente diverso e vi prenderà la sprovvista comunque a questo campo che cambierà di volta in volta. Ovviamente è munito di tutti i comfort, come gli spogliatoi, i bagni, le docce, c'è ovviamente la possibilità di noleggiare le repliche e l'equipaggiamento nel caso non ne siate provvisti. Appunto il Camp Phoenix è convenzionato anche con l'albergo che c'è subito lì di fianco, quindi diciamo che è un punto molto comodo per fare eventi, organizzazioni di giocate, ritrovi con molte squadre. Per questo, per chi non lo sapesse, l'anno scorso si è svolta anche una tappa del roadshot di G&G appunto presso Camp Phoenix e Soft AirDrum. Dulcis in fondo, Camp Phoenix è provvisto anche di un negozio con il quale appunto abbiamo aperto questa nuova collaborazione. Infatti, tramite il codice sconto Ornet 20 potrete accedere ad uno sconto del 10% su tutti gli ordini superiori ai 50€. Il negozio spazia dall'equipaggiamento tattico alle repliche e queste ultime ovviamente spaziano dalle repliche più low cost a quelle più di alta gamma. Quindi, è un negozio molto ben fornito e potete trovare del materiale tattico di alto livello che potreste trovare difficilmente in altri posti, quindi vi consiglio comunque di darci un'occhiata. Inoltre, non so se state seguendo su Instagram, ma ogni giorno Camp Phoenix Soft Air Shop sta mettendo delle one day promo su del materiale che vende a prezzo di costo durante questo periodo di quarantena, che secondo me è un'iniziativa molto molto lodevole, nel momento che appunto i soft gunner in questo momento sono tutti chiusi in casa. Però, c'è la voglia ovviamente di giocare e di fare acquisti, perché è uno dei nostri divertimenti. E in questo modo potrete controllare le offerte giornaliere, che sono davvero... D'ultimo fondo vi vorrei comunicare che adesso stiamo cercando appunto tramite questa collaborazione di ricevere un amico nuovo da mettere lì dietro, sperando che tutto vada in porto, in questo periodo nulla è troppo sicuro, ma vi faccio questa piccola anticipazione. Chi segue il mio profilo Instagram potrebbe aver già capito di cosa sto a parlare. Quindi ragazzi, ringrazio intanto CanFenix per questa opportunità, vi consiglio ovviamente di andare a seguire tutti i suoi profili social, su Instagram, su Facebook, sia CanFenixSoftairDrom che CanFenixSoftairShop. Grazie per aver visto questo brevissimo video, e ci sentiamo e ci vediamo venerdì con il video della settimana.